Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi, oggi abbiamo una schiena nuova che si è offerta volontaria, e andremo a fare un po' di robine che adesso vi spiegherò, e state pronti? Anche la parling faremo tracing sul tatuaggio, e se vi piacerà ditemi se vorreste un video dedicato al tracing su dei tatuaggi, e adesso vi faccio un po' vedere, e godete il video, ciao! Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi, oggi come davo richiesto, un altro video massaggi, questa volta abbiamo una schiena diversa come vedete, anche solo il tatuaggio, oggi faremo un po' di back scratching, quindi un po' di grattini con le unghie, poi un po' di grattini con le grattaschiena, in questo modo, mi piace molto quando si va verso il collo, anche così. Poi, visto che ci sono già i segni della bronzatura, andiamo a mettere un pochino di cremetato, e poi ovviamente andiamo a fare un po' di brushing, in questo tipo ventaglio, super morbido, che secondo me è perfetto. Quindi, io direi che possiamo cominciare e cominciamo con un semplice micromassaggio. Anche verso il collo. ti sto tagliando un po' di pelle. Anche io, vedete? Anche io, sento la fondatura. E dopo farò anche un pochino di tracing qui sopra, perché è un tatuaggio stupendo e... ovviamente, ovviamente, nel modo da ricalcarlo, non posso non approfittarne. Lo vedrete, ma scritto, punterei qui e poi anche delle farfalle qui sotto. Qui. Partiamo con... proprio applicando pochissima pressione. Qui. E poi scendiamo. Qui. Qui. E poi scendiamo. Mi piace tantissimo anche seguire la colonna vertebrale. Qui. E poi scendiamo. Qui. E poi scendiamo. E poi scendiamo. E partiamo dall'alto. e andiamo lentamente con una spalla lentamente lungo un'altra ti vedo in primitivo andiamo su lungo il tatuaggio lungo tutta la schiera non sto applicando la pressione in modo che sia un mezzo massaggio un mezzo solidichino e l'assante e ancora si prendiamo un arcollo mi rifaccio con la stessa cosa mettiamo l'altra spalla un'altra spalla un'altra spalla Fai davvero di matt Sì 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 E adesso vedo se ora mi metterò un po' di crema qui sopra Sì 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 Adesso prendo questa crema che è al latte verde, che è un tipo di luce Che ha un odore anche molto bello ed è abbastanza corposo, non troppo ma neanche troppo di quello E partiamo con un pochino e poi nel caso ne aggiungiamo Toglio tutti i capelli E comincio a spalmare C'è un amore tondo di più C'è un po' di più Sì Andiamo un po' Qui sotto E dall'altra parte E dall'altra parte C'è un po' di più C'è un po' di più C'è un po' di più Io ho provato il fatto che la crema sia un po' di ciecosetta però Per sentire le dita sulla schiena Per sentire le dita sulla schiena Grazie. E andiamo verso il passo. E adesso di nuovo, sono indecisa però, il grattaschieno, il pennello, tu cosa preferisci? Il grattaschieno? Il grattaschieno? Questo qui viola? Questo qui? Come questo da prima? Ah ok, l'ha scelto lei. Quindi, cominciamo. Ho un attacco ad uno dei capelli. Io sono strafissata con questo punto perché è uno dei punti che mi lascia. Questa sarebbe io. Grazie a voi. Siamo io. Che buone. Che buone. Che buone. Che buone. Che buone. Bambia. Sue. No, no, no E poi ancora in mezzo, e per l'altra parte Questo è letteralmente tipo da schiena Secondo me può essere usato anche quando si ha un gesso E si si deve irattare da qualche po' lì, non so se mi è mai capitato Ma mi faceva un po' rito il polso anche a me E adesso un po' a casa, apriamo un po' di onde Allora 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 Adesso per concludere E faccio il tracing sul tatuaggio E poi la buonanotte Ok? Adesso andiamo a fare del tracing preciso al tatuaggio Con questa trazzina che in realtà è per fare le punte dello smalto Un po' di dello smalto Ok Bella complicata Intanto provo a spiegarvi cos'è E' una lingua esotica La regia mi dice è una specie di sottolingua del polinesiano Tailandese 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 Ed è un augurio di buona vita In 1,2,3,4,5 Campi diversi Come amore, lavoro immagino? Giusto? Famiglia Famiglia E' stranissimo provare a capire Non so Non so come anche sia Composto una parola O una lettera Perché è totalmente diverso rispetto al nostro alfabeto Terza Terza Ad esempio, secondo voi, questi qui? Sono di questa riga di questa Soprattutto questi qui Non so Ok Abbiamo avuto delle G Delle S Delle PM2 Andiamo al quarto Andiamo al quarto Cosa sembra il cuore? E E Ocvento io Adesso Ok Cosa sembra Cosa sembra Cosa sembra Ed ecco qua E Ecco qua Fatto Ok Direi che è giunto L'ora Di a passare le luci e a curarvi a curarvi una 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 toda un toda una 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 otra una su Buona notte Buon noi, ho tornato Buona notte Buona notte Buona notte pasticcini Un bacione Te li spero Buona notte Buona notte Buona notte